Il secondo core di Secrets Non voleva essere una risata assolutamente Il paulino da me è una catena di poli E ragazzi questa sera alle 21 su Twitch Tiamate trattino bassofficio al secondo episodio di Secrets con Ele Leggeremo i vostri segreti e figuracce Mi raccomando non mancate per mandare i vostri segreti Se siete abbonati chat privata su Discord Avrete priorità di lettura Se non siete abbonati chiaramente su Twitch Tiamatesecretschiocciolagmail.com Vi aspettiamo alle 21 per leggere anche questa sera i vostri segreti e figuracce fighissimi Ciao Tia e Dele Ciao Ciao Ricky Ad aprile nella mia scuola c'è stata un'occupazione E i rappresentati dell'istituto hanno deciso di creare dei laboratori per passare il tempo Tra i laboratori c'era quello di anime Ovviamente passai il pomeriggio lì insieme ad altri Cioè c'era il laboratorio di anime? Il problema è che verso metà pomeriggio propongo di mettere Parasite Perché alcuni non l'avevano ancora visto Dopo qualche episodio entra la preside in classe e guarda la Lim All'inizio non dice nulla e se ne va Però nell'avviarsi alla porta se ne esce con Da grandi diventerete dei serial killer Ma Che brutta gioventù Ma poi perché da grandi diventerete dei serial killer? Parasite è crudo Però dei serial killer Posso commentare questa cosa Cioè quindi Allora Ha visto che i suoi ragazzi guardavano Parasite E quindi da grandi diventeranno dei serial killer Dopo aggiunge infatti Aspetta Se avessi messo un entai Che cazzo avrebbe detto? Qual è la cosa? Una delle opening che a tutti Almeno in una fase della nostra vita Ci ha gasato più da morire Siete tutti su Sasagheio? Sasagheio Luigi Ciao Luigi Era all'incirca ferragosto Il giorno prima Dello scorso anno Io ero a casa mia da solo Nel chill totale Non so perché quel giorno Mi sono svegliato presto Tipo intorno alle 6 e mezza Ed essendomi svegliato tutto sudato Cioè caldo immagino No sì Il ferragosto dell'anno scorso Amo te lo ricordi Decisi di farmi una doccia fresca Alle 6 e mezza Quindi presto Dovete sapere che io ho l'abitudine Di ascoltare le opening al posto di canzoni Mentre faccio la doccia Spoiler lo faccio anch'io Ok Fortuna vuole che sia partita proprio Sasagheio E come non puoi cantare Sasagheio A squarciagola con il volume al massimo Lo feci pensando Alle 6 e mezza di mattina Esatto Lo feci pensando Tanto chi è Cioè che non è partito per le vacanze Certo Tutti via Figura si sarà nel ferragosto Certo Ebbene I miei vicini di sotto Che con un bel sorrisone Mi suonarono alla porta E io dovetti scusarmi Se tu alle 6 e mezza di mattina Mi svegli con Sasagheio Non è che ti busto alla porta Sì vabbè ma tu devi capire Che ti sale il patriottismo Tu devi capire che io prendo una canzone Ancora più forte E ti faccio tremare la madre Parte la war Allora lì sì esatto Parte una war Buonasera Ciao Nico Saluta Nico Ciao Nico Per il ritorno di Secrets Voi iscriverti un segreto molto interessante Un giorno ho deciso di prendere Il mio primo manga Entai Andai in fumetteria con mia zia Andare con la zia a prendere l'Entai È particolare già di per sé comunque E l'ho presi Togliendo la sovraccoperta Per non farle vedere cosa avessi preso La sovraccopertina Me l'era nascosta nello zaino Quindi lui prende in fumetteria Esce Toglie la sovraccoperta L'ha già pagato La nasconde E ha preso un semplicissimo manga È stato anche intelligente come mostro Sì ma in molti manga Se togli la sovraccoperta Hanno la stessa immagine di copertina Evidentemente è uno di quelli Ha avuto culo Semplicissimi manga sotto Tra i mille virgolette Appena tornammo a casa Mi di subito in camera mia a leggere Senza farlo vedere ai miei genitori La mia camera è strutturata con un letto E dietro una finestra Che porta al balcone Per far ridere Mi sono immaglionato la scena Il problema viene ora Siccome mia madre stava pulendo il balcone Me la sono ritornata fuori dalla finestra Dalle spalle Che guardava cosa stessi leggendo Ma tipo un avvoltoio Sì ma fa straridere perché Cioè lui si è messo a leggere sul letto Con il balcone dietro Più che lui A me sta facendo ridere La scena della madre dietro La madre interessata Che continua a leggere Vedendola mi spaventai E tirai in aria il manga Matti Torniamo al segreto della merda Il titolo del segreto di Matti è Una storia di merda In che senso? In tutti Cioè ti direi sono Matti Vi racconterò una storia leggendaria Indimenticabile Tratta da una storia vera Però vi dico già Che se state mangiando È meglio schifare questo segretto La vicenda si svolse Un mercoledì a scuola In terza superiore Avevamo appena finito L'ora di matematica E ci preparavamo Per l'intervallo Mentre stavamo mangiando Sentiamo Cazzo raga Devo fare una cagata pazzesca Era un compagno di classe Che chiameremo M Era agitato Perché ci disse Che se la stesse tenendosi Era agitato Perché ci disse Che la stesse tenendosi Dalla seconda ora Allora chiese Alla prof di matematica Se potesse uscire Per andare in bagno Rispose con un no Perché disse Che siccome non era più La sua ora Non era in facoltà Di dare il permesso Doveva chiedere al prof Dell'ora successiva Passarono penso 5 minuti E finalmente si fece vivo M lo assalì come un falco Con le prede E gli chiese Prof posso andare in bagno? Il prof Vedendo la sua disperazione Diede il permesso Lui scattò Come se lo avesse mai fatto In tutta la sua vita Bene Noi vediamo una scena Dal corridoio E ci stavamo spaccando Dalle risate Se pensavate che fosse Questo il segreto Questo è solo il preambolo Questo è solo il preambolo M successivamente Tornò in classe Sorridente quasi come se Avesse qualcosa da dire Conoscendolo avevo paura L'ha cagato Sono qua alla porta Della classe E disse chiaramente Raga non potete capire Cazzo ho visto nel bagno Non ci potete Potrete mai credere Ho visto uno stronzo Gigantesco avvolto Da carta E da delle mutande Noi in coro Hai fatto la foto? Un'affermazione Che era contestualizzare Noi quell'anno Avevamo incontrato Nuovi compagni di classe Uno di loro Aveva sentita la seconda Una pagina insta In cui pubblicava gli stronzi Che trovava in giro Per il cesso Non ho mai capito il motivo Ma un bel lobby Devo dire Perché non vai a seguirlo? Potrebbe interessarti Secondo me Noi quindi avevamo chiesto Della foto Proprio per pubblicarla Nella page Ritornando alla storia Ce la fece vedere Ed era proprio disgustosa Aberrante Ricoperto da delle mutande Di colore bianco A giudicare dalla foto Che il povero Cristo Non avesse abbastanza carta No e abbia usato La propria mutanda Per pulirsi Ah già tutto questo discorso Lo facevamo Mentre il prof Era dietro di noi La sua faccia Lascia molto da dire Gravier arriva al momento giusto Sì comunque È impossibile come Gravier Mirai di sempre Nei momenti Più di alta qualità Della live In cui stiamo leggendo Un segreto riguardante Della merda a scuola Prima stavamo parlando Di cose importanti Filosofie di vita Ale Mirai da sempre In questo istante Posso leggerla io La seconda parte Stavamo facendo Tutto questo discorso Mentre il prof Era dietro di noi La sua faccia Lasciava molto da dire Penso che fosse schifato Da tutto ciò E non ci considerava normale Poca roba Poco importa Il prof era uno di noi Non avrebbe mai detto Niente ai suoi colleghi Però la storia Della page Non ebbe una good ending Il prof era uno di noi Uno di noi Ok Ora torniamo al punto In cui ce l'avamo fermati In tutto questo Arrivò S S Il founder della page Ok In classe Gli dicemmo che Sì ok Che M Aveva trovato Uno stronzo in bagno E aveva fatto la foto Lui si strofinò Alle mani E disse Bel materiale Per tornare a postare È marketing ragazzi La storia potrebbe essere finita qui E invece Ragazzi Non finisce più Non finirà mai C'è anche una foto Allegata Sì sotto spoiler Con scritto spoiler Ci hai mandato la foto Della merda Matti Ci hai mandato la foto Della merda No no La voglio vedere Dopo la guardiamo Capitai proprio nel bagno In cui c'era lo stronzo Bellissimo come lo chiami Stronzo in ogni momento Cioè non lo chiama Sterco Merda Cacca E dico Capitai perché nel nostro piano C'erano due bagni Disponibili A cui andare Una destra e una sinistra Dall'aula La distanza era la stessa Forse la sorte voleva condurmi In quella in cui c'era la merda Arrivai ai bagni Apri la porta E senti fin da subito Il fettore di merda salire Man mano ti avvicinavi al bagno L'odore si faceva più intenso Mi incamminai e vidi Il fatto incriminato E ora direte Ma come non ci dovrebbe essere la porta? Non c'era la porta? Vero ma peccato che qualcuno L'aveva tolta E l'aveva messa sopra la struttura Per far godere a tutti Di quello spettacolo incredibile Cercai di trattenermi E feci la pipì E uscii Tornando in classe La page alla fine Con il cambio della preside Ma riuscimmo a patteggiare E arrivare a semplicemente A metterla privata Ma si è scoperto che lo snitch Anche se penso che sia Semplicemente diffusa la voce In tutta la scuola Fino ad aggiungere i professori Non sapremo mai Chi fu la persona che cagò lì L'eroe Chi è l'eroe? Non sapremo mai L'eroe leggendario Che cagò in quel bagno Ma uomo tu sei una leggenda Hai permesso di riaprire Una delle page più belle della scuola E si ho detto page Perché ce n'era più di una PS Per comprovare che la mia storia è vera Ho mandato sotto l'immagine del post Che schifo Che schifo Che schifo Ciao Tia Ele Tutto a posto? Sì ma ha cagato anche per i parenti Non ho capito Sì ma è liquida Abbiamo iniziato col botto Sta stagione di segre Che schifo Matti mandala pure sul gruppo dei sub se vuoi Nata ragazzi È tornata a sbatonza She's back Ciao Tia ciao Ele Mi chiamo Claudia ma chiamatemi pure sbatonza Ciao sbatonza chiaramente Oggi vi racconterò di come mia madre Mi ha quasi scoperto a leggere cose zozze Yaoi Quasi però c'è un quasi eh Quasi infatti Quindi probabilmente riuscite a doggiarla Non l'ha presa C'è un punto che mi fa morire Era una sera di luglio e stavo leggendo Yaoi Saluta sul divano della cucina La tv era accesa Comunque impavida Sì sì tranquillissima Cazzata Mia madre era fuori in cortile E appena sente la musica provenire dalla tv Entra e inizia a ballare Proprio in quel momento nel manua Ero arrivata alla parte in cui fanno cose Si avvicina pericolosamente a me Probabilmente per farmi ballare con lei E di riflesso nascondo il telefono Di solito non si accorge di questa mia azione Ma stavolta sa perché il fato se ne accorge Quindi lei chiese che cosa stai guardando Io non risposi per l'ansia Continuo con la stessa domanda per un po' Fino a quando decise di avvicinarsi ancora di più Tipo squalo Me lo sto immaginando con la musica dello squalo Con il profondo rosso sotto A quel punto spensi il telefono E mi buttai sul divano Perché nel mentre mia madre era cercato di afferrarlo Poi mi pose la domanda Ma stai guardando dei nudi? Mi pietrificai Aia Ci misi un po' per elaborare e risponderle un no Mezzo urlato Non so se mi abbia creduto o meno Ma non chiese più niente e se ne andò So due cose però I nudi che si immaginava lei Non erano di certo quelli che in realtà stavo leggendo E si è realizzato a metà uno dei miei peggiori Mamma che La schivada però eh Ho visto la morte in faccia E ne è uscita trionfante Ciao Erigia Certo io ci avevo Oggi vi voglio raccontare una delle tante cose strane che ho fatto Una delle mille esperienze mistiche Ciao Erigia Era il giorno dell'esame di terza media E io come tesina portai il cinema Figato tra l'altro Avevo fatto una sfida con un mio amico E se avessi suonato un opening anime all'esame Mi avrebbe dato 10 euro Io accettai Io per 10 euro non avrei accettato Un opening anime all'esame Io sto scrivendo Con uno zero in più sì volentieri Allora appena arrivò il turno di musica Mi misi al piano e suonai Cici, citici, cici, 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 c 키 bang bang Credo intenda, non mi ricordo si chiami così Credo tu intenda quella di Paripi, bravi Purtroppo la mia prof essendo giovane Avendo iniziato a guardare anime sotto mio consiglio La riconobbe si mise a ridere davanti alla commissione Qua però mi sorge un dubbio Che adesso vi dico Inutile dire che mi fermai, diventai toro su per l'imbarazzo Per me hanno preso per scema la professoressa così Si è messa a ridere durante l'esibizione dell'alunno Per me hanno preso per pazza la professoressa In questo caso Perfetto, ottimo Ciao Lollo Il mio segreto è abbastanza imbarazzante Però mi sono fatto forza e ve lo voglio raccontare Era una calda serata estiva in quel di Torre Canne Un paesino in provincia di Brindisi In quel periodo, circa 5-6 anni fa Non ero ancora completamente preso dal mondo anime e manga E l'opera che amavo all'epoca era Naruto Ora, si dà il caso che io sia una persona particolarmente eccentrica Che nei momenti noiosi tendeva a fare cose particolarmente ambigue Del tipo, che ne so, parlare da solo o altro Sì, sono una persona che mi sta da fuori è strana e lo capisco Comunque, quella sera eravamo usciti a mangiare assieme ad alcuni amici pugliesi Che a loro volta ne avevano invitati altri Tra cui alcuni belgi Di questi amici belgi c'era un poliziotto con la moglie E un altro che era venuto con la moglie e le due figlie Che chiameremo Akeno e Rias Perché sì, probabilmente non avevano visto un anime in vita loro Entrambe più grandi di me di tipo 3 anni All'epoca avevo circa 17-18 anni La serata procede senza problemi di sorta Con me che mi destreggiavo con le due ragazze grazie alla mia all'epoca Buona parlantina in francese Si destreggiava, eh, lollo? La serata però era di per sé noiosa Quindi, aspettando che arrivassero le portate Mi metto, non chiedetemi perché, vi prego A fare con le mani i segni per comporre le tecniche ninja Ecco la parte brutta Loro mi vedono Mi chiedono cosa sto facendo Ed io, preso dal panico Mi invento una scusa Ossia che lo facevo per rilassarmi Le tecniche ninja che tra l'altro sono tipo dei mezzi spasmi Fondamentalmente per rilassarsi è bellissimo, cazzo Probabilmente non mi avranno creduto E mi avranno giustamente reputato un tipo strano Però mi è sembrato che, alla fine, ci fossero cascate Comunque, la cena proseguì senza altri problemi Nei miei, negli altri hanno visto il misfatto in questione Tuttavia, al momento dei saluti Una di loro mi salutò E mi fece uno di quei gesti che avevo fatto prima E niente, dentro di me ho un po' riso Fermo, fermo, lollo L'hai conquistata? L'hai mai rivista? L'hai conquistata però, eh? Buonasera, Egregio Conte Tia e Contessa Ele Sono Leggemon Oggi vi racconto non proprio un segreto Ma un'avventura per tutti comica fatta eccezione per me Insomma, iniziamo bene Quest'anno, durante il primo compito di disegno tecnico La Lim non funzionava E la professoressa, che avrò per tutti e cinque gli anni Mi manda alla Lim per vedere se per caso Riuscissi a risolvere codesto problema Mentre ero sotto la cattedra a smanettare con i cavi Inizio a dettare il comando L'ho detta la seconda e ultima volta Mentre torno al posto, sconfitto E quindi non riesco a seguire il testo E lei non lo voleva ripetere una terza volta Quindi mi dà il testo e lo copio Era una proiezione ortogonale con compenetrazione di un solido Che cazzo vuol dire? Vabbè Non hai mai fatto disegno tecnico? Sì, ma me lo ricordo, secondo te C'avevo un professore figlio di una buona donna E le domando se dovevo riportare le misure nel modo 1 o nel modo 2 Evito di descriverveli Lei mi risponde nel modo 1 Manca una mezz'oretta prima della consegna E sbircio nel disegno del mio compagno Che vedo che l'ho fatto nel modo 2 Chiedo alla professoressa se avevo sbagliato E soprattutto se dovevo ripartire da 0 Lei dice che non sarei dovuto ripartire da 0 Perché comunque il disegno era ben fatto E che nonostante quell'errore avrei avuto la sufficienza Il disegno era ben fatto E nonostante quell'errore avrei avuto la sufficienza 4 Finisco quindi il disegno e consegno Mette su registro i voti E mi chiamano incazzatissimi i miei Chiedendomi il perché del 5 meno Ottimo Sufficienza 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 Io mi difendo dicendo che avevo fatto un solo errore Quello di aver riportato male una misura Ma loro non ci credono Chiedendo quindi se potessi fare una foto al disegno Così ce lo saremmo guardati a casa Io dico che non potevo farlo Loro mi rispondono di chiederlo alla prof E che se lei ha consente di farlo Ricordiamo che per quell'errore comunque avrei dovuto avere la sufficienza Una grande prof Riporta in classe i compiti E le chiedo se posso fare una foto Dato che i miei non capiscono cosa io abbia sbagliato Lei risponde urlando di no E che se lo avessi fatto mi avrebbe sospeso Ottimo Incazzata Torno a posto Guardo il disegno E indovina un po' Tutti gli errori che c'erano Erano in realtà le conseguenze Per aver preso male una singola misura Esattamente come aveva detto lui Bella bella prof Mi cazzo ma sto zitto Ma ora arriva il bello Mi metto il pollice nella tasca del jeans E mi inizia a urlare Allora vuoi essere sospeso? Io le chiedo che cosa avessi fatto E lei mi risponde Hai fatto la foto al compito E ti sei messo il telefono in tasca In quel momento indico il telefono che era sul banco Il telefono che era sul banco E allora lei guardandomi male si gira E continua a correggere i compiti Che tocca E questa è stata la volta in cui stavo per essere sospeso Perché mi sono messo una mano in tasca Che zuzza E questa è stata la volta in tasca